Milano non è una città inquinata, è la città italiana più longeva, cioè dove l'aspettativa di vita è più lunga, allora vuol dire che lo smog fa bene, questo è evidente, se a Milano si campa di più pur con lo smog e altrove si crepa prima senza smog, cosa pensare? A qualcuno dice ma perché a Milano funziona la sanità, ecco lo smog si combatte anche con la sanità, non certo respirando così a cacchio e andando in giro come deficienti, per quanto riguarda il divieto di circolazione segnalo a Sala che anche a Roma hanno preso un provvedimento analogo, cioè la Raggi ha impedito di circolare anche alle automobili diesel Euro 6 che non inquinano, questo è stato stabilito, infatti fermata la circolazione lo smog di Roma anziché diminuire è aumentato, poi non riesco a capire come Sala non arrivi a pensare che lo smog è quello che c'è, sempre di meno perché è calato moltissimo negli ultimi anni, è dovuto agli impianti di riscaldamento che non sono la norma e chi li controlla invece di rompere le balle con il fumo organizzi delle squadre che vanno a controllare le caldaie che emettono delle sostanze che non vanno bene, mi sembrerebbe la cosa più normale da fare, lui non lo fa, se la prende con le sigarette, addirittura ho letto che secondo lui col supporto di un pneumologo importante, una sigaretta inquina di più di una locomotiva, queste assurdità però le raccontino come barzellette va bene, ma se le vogliono spacciare per delle verità vuol dire che non stanno bene, bisogna chiamare gli infermieri.